La piuma del giorno. Oggi parliamo di rapaci, la falconeria. Molti pensano che questi rapaci siano al fianco dell'uomo da poco, perché sono nati dopo ovviamente i social, ma la storia dei rapaci è antichissima, sono animali nobili. Pensate che la storia è oltre 5.000 anni. Parte dalla Mongolia, dalla Cina, dopodiché passa per la via della seta, per i viaggi che hanno fatto gli arabi e poi l'hanno portata fino in Italia. Questi animali, per quanto concerne la caccia, sono sempre stati al fianco dell'uomo e hanno sempre avuto delle relazioni veramente bellissime.